Gianluca Fantini di Pirelli, voi vi state distinguendo in questi anni per una serie di operazioni legate alla sostenibilità, fate un prodotto che anche era difficile da gestire, è un prodotto complesso, quindi si aveva l'esigenza da parte vostra di un impegno da tutti i punti di vista per portare avanti un progetto veramente sostenibile. E avete trovato tutto proprio per questo, tutta una serie di partner che obbediscono a quella che è la vostra filosofia o che sono in linea con la vostra filosofia, tra cui insomma il padrone di casa di oggi, quindi DSV, che cosa è nato, cosa sta nascendo e che cosa state portando avanti da questo punto di vista? Allora innanzitutto buonasera a tutti, due parole su cosa vuol dire sostenibilità in Pirelli. Direi che è centrale in tutta la strategia, lo facciamo da moltissimi anni, negli ultimi anni sicuramente è diventato ancora più importante, però abbiamo proprio una struttura di persone che sono focalizzate a seguire tutti quelli che sono gli obiettivi. Non solo diciamo di impatto sul clima, ma anche sulla gestione delle persone, piuttosto che sulla biodiversità. Tenete conto che noi, il nostro prodotto è fondamentalmente per l'80% portato su gomma naturale che arriva da un prodotto naturale, quindi anche la biodiversità è un elemento che stiamo cercando di rispettare. Ovviamente tutto questo è declinato all'interno delle varie funzioni aziendali, a partire dal prodotto che cerca di sviluppare un prodotto sempre più green, quindi con materiali sostenibili, materiali anche riciclabili, per poi arrivare fino al fine vita e nonché all'utilizzo, diciamo che alla fine va sotto un veicolo e quindi anche sviluppare pneumatici per esempio per tutto il mondo dell'elettrico contribuisce a ridurre un po' quelli che sono i vari scopi 1, 2, 3. Venendo poi alla parte che gestisco più direttamente che è quella della contract logistics, ovviamente il focus più grande è quello del monitoraggio delle emissioni che gestiscono i nostri prodotti. Per darvi un'idea noi abbiamo circa un milione di metri quadri di magazzino, gestiamo 65-70 milioni di pneumatici e fondamentalmente distribuiamo tutti i nostri pneumatici in tutto il mondo. Stiamo cercando di portare avanti una logica anche per andare incontro un po' a tutte quelle sfide, canali di Suez, noi le abbiamo viste praticamente tutte. Poi se tenete conto che siamo pure energivori, anche quello che è successo purtroppo con l'invasione in Ucraina e l'aumento dei prezzi di energia è stata una sfida. Quindi una delle attività che abbiamo cercato di fare è anche quella di portare avanti una logica di local for local a livello di region, quindi ora stiamo puntando al 90%, vuol dire che il 90% di quello che produciamo in una region rimane all'interno della region. Non si può fare a livello di country perché ovviamente le tecnologie, le omologazioni sono complesse e devono fondamentalmente avere una centralità nella fabbrica. Tornando quindi all'emission monitor, noi abbiamo iniziato a monitorare quelle che sono le emissioni, all'inizio con delle stime fatte da noi, ovviamente per cercare anche di supportare tutta quella reportistica non finanziaria, ma che tra un po' diventerà anche parte importante della parte finanziaria e ora lo stiamo chiedendo anche agli operatori, quindi fondamentalmente misuriamo insieme quelle che sono le emissioni, diamoci dei target per ridurle e monitoriamo questi target. Non solo magari migliorando il mezzo di trasporto, ma magari anche cercando di movimentare in maniera più efficiente la merce. Abbiamo uno slogan che si dice Move Less, Move Better, quindi cerchiamo di ridurre fondamentalmente le movimentazioni e quelle movimentazioni farle in maniera più efficiente. Un esempio che abbiamo fatto con DSV, noi a Torino abbiamo una fabbrica, a Sattimo Torinese, prima del 2021 tutta la merce veniva spostata al sito di San Pietro Mosezzo, gestito da DSV, quindi immaginatevi camion che fondamentalmente tutti i giorni andavano avanti e indietro e abbiamo fatto questo progetto di redesign del nostro network e abbiamo costruito un magazzino esattamente dalla parte opposta dell'autostrada, tra l'altro in un sito che era un brownfield, era un'ex fabbrica, quindi non abbiamo neanche consumato terreno nuovo, quindi abbiamo effettuato tutto quello che è un ciclo di bonifica e abbiamo anche avviato per il polo di Settimo tutta una serie di attività. Quindi il Move Less, quindi fondamentalmente abbiamo ridotto proprio la movimentazione di merce e poi il Move Better perché adesso stiamo cercando di farlo anche con trazioni alternative, che potrebbe essere l'elettrico piuttosto che il biometano, questo è un esempio di logistica sostenibile. Grazie, grazie, facciamo un applauso.